Oggi è un giorno importante, ed è importante perché ho deciso di fare una scelta. A costo di sembrare anche un po' incoerente, questo però lo spiegherò pian piano, voglio far tornare le teorie su questo canale. In questi quasi due anni sono cambiate tante e tante cose. L'ultimo video era una teoria su Madagascar, in collaborazione tra l'altro con Apriamo gli Occhi, Inferno, Paradiso, Purgatorio, queste cose. Comunque, quel video lo trovate sul canale come praticamente quasi tutte le teorie pubblicate dall'inizio di questo progetto. Quel video risale a maggio 2021, quindi quasi due anni fa, e senza avvisare è stato effettivamente l'ultimo video teoria del canale. Poi, in quell'estate, almeno credo fosse l'estate, perché mi ero un po' rassettato con questa nuova stanza, anche se poi con il tempo è cambiata anche più volte nei diversi video, ho pubblicato il video spiegazione. Adesso non ricordo come si chiama, comunque lo trovate sul canale, era un video con pochissimi tagli perché era molto discorsivo, spiegavo perché appunto non ci fossero teorie da molto tempo e soprattutto perché non volevo più portare teorie sui cartoni. Perché era un format che non riusciva più a soddisfarmi e che soprattutto portava un certo tipo di riscontro che magari non riusciva a supportare al 100% il mio lavoro. E quindi ho deciso ufficialmente di accantonare le teorie sui cartoni. Adesso però, dopo quasi due anni, sento che mi manca qualcosa. In certi versi mi mancano proprio le teorie, registrare un video teoria, pubblicare un video teoria. E quindi ho deciso di fare quest'altra ardua scelta, ovvero far tornare appunto le teorie sul canale, sul pensiero di Andri. A costo appunto, l'ho già detto, di sembrare incoerente perché ho spiegato più volte il motivo per cui non mi piaceva fare più teorie, nonostante fosse praticamente il format che mi ha consacrato su internet, sul web, mi ha reso, tra virgolette, famoso, non prendete questa parola, cioè è molto esagerata come parola perché non sono mai stato famoso, ma sono conosciuto, sono stato conosciuto per le teorie, i video teoria. E nonostante mi avessero quasi tutti conosciuto con quei video, nell'estate 2021 ho buttato tutto. Però adesso vedo di spiegare meglio, perché sì, effettivamente non torneranno le teorie sui cartoni, però anche se non diventerà il format principale, cosa che era prima, qualche video teoria ogni tanto spunterà sul canale, non su cartoni, non ci saranno più teorie sui cartoni, ci saranno solo magari teorie su film, sui miei film preferiti, sulle serie che escono al momento, ma i cartoni per esempio, Gumball, tutti i cartoni della Cartoon Network, per esempio quelle teorie, il tipo è morto, queste robe, ok. No, questo non tornerà. Perché effettivamente è un tipo di video che non mi interessa più fare, e quindi continuo sul mio stesso pensiero. Mi sono un po' sbagliato io nel tempo, nella registrazione del video nel 2021, a dire che non mi piaceva fare più teorie al 100%. A me continuano a piacere le teorie, però quel tipo di teorie, il tipo di teoria sui cartoni, che magari può interessare a un pubblico molto piccolo, ecco, quello non mi piaceva più fare, non mi piace effettivamente più fare, perché inevitabilmente sono cresciuto anch'io. E ora sono ancora più grande in confronto al 2021, adesso sono maggiorenne, che sì, non è un traguardo, ovviamente non ci sono problemi se magari anche un cinquantenne guarda ancora i cartoni di Cartoon Network, però non sono più spettacoli che mi interessa guardare. I miei gusti sono cambiati, e siccome appunto il canale non è un lavoro al 100%, ho deciso di gettare quel tipo di video. Però le teorie le continuo a seguire, e mi piace speculare o andare oltre le storie che vengono presentate al cinema o alla tv. Ed ecco perché, proprio oggi, ripeto ancora una volta, che sul pensiero di Andri, sul canale, ogni tanto comparirà qualche videoteoria. Ripeto, per chi magari ha schippato così, senza alcun motivo, perché non bisogna schippare video del genere, non ci saranno più videoteorie sui cartoni, perché è quello l'argomento, è quello il format che non mi piaceva più portare, e non mi piace più portare da quasi due anni. Le teorie, le poche teorie che compariranno sul canale, tra i video, saranno solo teorie su film, su film anche datati, possibilmente, su serie, su serie anche nuove, per esempio speculazioni su nuove stagioni di serie che seguo, come per esempio Stranger Things, cosa che comunque portavo già al tempo, e infatti era quello che mi piaceva portare riguardo le teorie. E questo è tutto. Non ci sarà effettivamente un ritorno al passato, ci sarà solo un ritorno al futuro, no, no, in realtà non c'entra niente detto in questo modo, però non sarà più il format principale del canale, adesso ci sono le recensioni, che sì, praticamente non vengono cagate quasi da nessuno, ma mi piace registrare recensioni di film e serie, mi piace anche tanto parlare di cinema, perché è quello che faccio, io vivo al cinema, e soprattutto sarà il mio lavoro, sarà la mia vita. Poi fra due giorni, il 3 aprile, arriverà su questo canale un video su Super Mario Bros. del 1993, che secondo me è il video più ambizioso mai fatto sul mio canale, uno dei video a cui ho lavorato di più, con uno storytelling, un editing molto diverso dal solito, dal mio solito naturalmente. E questo video spero possa diventare il primo di una nuova serie, perché comunque ho tante e tante idee da portare qui, ma appunto sentivo la mancanza di qualcosa, e questo qualcosa erano le teorie che comunque non ho mai smesso di seguire. Per l'ennesima volta, ripeto, non quelle sui cartoni, ma le teorie in generale. Il 3 aprile arriverà il video su Super Mario, invece oggi è l'1 aprile, ovvero pesce d'aprile, e il mio scherzo per quest'anno è stato proprio questo, ovvero farvi credere che fosse uno scherzo il video di oggi, e invece le teorie torneranno davvero. Già, la cosa divertente è che io questa idea ce l'ho effettivamente dal pesce d'aprile scorso, ovvero quello della chiusura della porta, non del canale, con il fraintendimento della chiusura della porta invece del canale, però l'anno scorso l'idea era quella di effettivamente presentare il ritorno delle teorie e dei cartoni, per poi dire no, non torneranno le teorie. Invece questa volta, quest'anno, siccome la mancanza l'ho sentita realmente, ho deciso di portare un falso scherzo, parlandovi per tutto il tempo del ritorno delle teorie, per farvi pensare per tutta la durata ad uno scherzo per il pesce d'aprile, e invece il pesce d'aprile farvi credere che fosse un pesce d'aprile questo video, cosa che non è. E lo ripeto per l'ennesima volta, prendetemi per incoerente, disiscrivetevi quanto volete, non c'è problema, ma qualche videoteoria, uno ogni anno, tornerà solo per, appunto, colmare quella mancanza che mi si era inaspettatamente andata a formare. Ma ragazzi, questo pesce d'aprile è praticamente il pesce d'aprile più insolito che si è uscito su questo canale, col tempo ho pubblicato delle false recensioni su la casa di carta 3, penso, non ricordo la stagione, forse 3 sì, poi la falsa recensione su Godzilla vs Kong, non ricordo, c'era un altro video, poi c'è, appunto, la chiusura della porta, e ora questo, che non è poi così tanto un pesce d'aprile? Vediamo, vediamo come andrà in futuro. Io non ho ancora iniziato a lavorare a nessun videoteoria, non so quando inizierò, non so quando arriverà il primo video di questa nuova, di questo nuovo ritorno sul canale, fatto sta che l'idea c'è, l'idea di far tornare le teorie, non l'idea per un video. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, vi ricordo che nella descrizione per supportarmi ci sono i diversi link dei social, il link di Pampling, dove potete acquistare questa bellissima t-shirt su Alberto Angela, il protettore della divulgazione, e con il codice ilpensiero4 avrete la possibilità di inserire un paio di calze nel carrello e averle totalmente gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!